in italia siamo riusciti a creare un mostro un ibrido il peggio dei due mondi il sistema sanitario è un buon sistema sanitario con l'italiano ma scherziamo che tutto costruito su una vecchia società su una società dove lavorava solo l'uomo e dove c'erano i nonni sempre vicino sono di nuovo qui con marco cappelli di storia d'italia e grazie davide è veramente un piacere averti qui a casa mia questo è insomma è quarter di storia d'italia insomma dai libri i miei due libri marchetti vabbè non metto questo non siamo qui per parlare di storia ma della tua storia personale perché tu sei emigrato dall'italia sei un cervello in fuga possiamo dire sei emigrato dall'italia il cervello non lo so a parte se andate in fuga pure quello in italia si dice così cervello in fuga penso sia una cosa peculiare dell'italia non so per quale motivo si dice brain drain in inglese il fenomeno del ah ok quindi in effetti c'è anche in inglese tu da quanto tempo è che non vivi in italia a che età te ne sei andato allora io perché stabilmente vivo in belgio dal 2012 però ecco un'altra esperienza ho vissuto anche un pochino di tempo negli stati uniti dove ho conosciuto mia moglie attuale che è un tipico caso di russo texano ce ne sono tanti di russi texani una persona così nella propria vita ma in un certo senso mi sentivo emigrante già 19 anni perché io sono andato all'estero nel senso che sono sono andato dal sud italia al nord italia quindi come emigrare e come emigrare all'estero quindi già 19 anni sono un raro caso tra l'altro di 19enne che esce di casa insomma sì sì abbiamo visto per il nostro corso che la media mi pare sia sui 29 30 anni per ma con tanta gente che rimane ben oltre perché se la media 29 30 vuol dire che tanti sono anche 35 36 37 sì io sono uscito di casa 24 che già sotto la media tu molto sotto la media tu eri praticamente ancora in fasce nella culla quando sei stato buttato fuori per gli italiani io quando dico a 19 anni la maggior parte delle persone rimane inorridita inorridita no e io poi era proprio un distacco forte perché da pescare a milano era veramente come andare in un altro mondo insomma non era diciamo una città a fianco insomma e ho anche una famiglia internazionale come dicevo perché mia moglie è di origine dell'unione sovietica poi vissuta negli stati uniti e le figlie parlavo ieri con un poliglotta come davide mie figlie parlano diverse lingue perché vanno a scuola in francese con me parlano in italiano con la mamma in russo ma vedono anche film in inglese quindi anche l'inglese e studiano a scuola l'olandese come seconda lingua una situazione bellissima per chi ama le lingue quindi l'idea era parlare un po delle differenze tra italia e estero tipico video che avranno fatto tante persone che però è interessante secondo me per capire un po dal tuo punto di vista i vantaggi gli svantaggi del vivere all'estero rispetto a vivere in italia abbiamo andiamo per punti magari allora il primo punto che per me non conta tanto è il clima cioè la prima cosa che direbbero gli italiani direbbero il clima e il cibo e a me piace il cibo di qualunque posto del mondo con pochissime eccezioni e tendenzialmente del clima anzi a me piace il freddo ho sempre adorato a milano la nebbia e mi è sempre piaciuto comunque un clima uggioso e detesto il caldo marco è una persona particolare è fatto così lo accettiamo con me e poi sono mi sono sposato una russa fredolosa però vabbè e quindi il se potessi tu andresti io andrei ancora io in vacanza vado in vacanza in islanda in norvegia per me quelli sono i posti di andare in vacanza e mia moglie vuole sempre andare al caldo non sei un abruzzese tipico no ma in realtà gli abruzzesi sono montanari perché noi abbiamo le montagne alte fa freddo una cosa che non si sa del centro italia che può fare molto l'hanno scoperto gli americani gli inglesi durante la seconda guerra mondiale che sono arrivati in italia pensando di andare in un paese del mediterraneo caldo e poi hanno scoperto che l'inverno in italia piove tanto fa freddo e bisogna essere vestiti bene meglio che nel nord europa però il ecco queste cose a me non interessano però mi manca in un certo senso la varietà del paesaggio italiano quello si è una cosa innata dell'italia l'italia è un paese che nel suo piccolo ha tanta varietà paesaggistica montagne colline pianure coste frastagliate isole eccetera essere all'interno di una grande pianura che va dal praticamente dai pirenei fino alla siberia in un certo senso è un po limitante da questo punto di vista poi bisogna anche dire tutta questa varietà in un territorio concentrato no perché se mi dici gli stati uniti vabbè un continente chiaro che c'hai dentro di tutto però in italia però io conosco un'ora passi dal mare alla montagna io però conosco dallas dove vado con i miei suoi so che nel giro di 5 6 ore il paesaggio è sempre quello quindi il sì la peculiarità dell'italia è che se tu attraversi l'italia in 3 4 ore d'auto passi per 10 paesaggi diversi uno potrebbe dire non vale niente per me vale tanto vale anche tanto poter semplicemente andare in montagna in giornata ecco questo mi manca però può essere può sembrare una banalità per me non lo è ma anche la stessa varietà delle città tante città lo dicevamo anche in un altro video tante città molto varie tra di loro dove tu sei a milano e in un'ora sei a torino che è questa città di epoca ottocentesca grandiosa con il re molto molto da capitale di un regno due ore in un'altra direzione sei a venezia la città medievale con le calli i canali senza le auto per me un paradiso marco odia le auto anche io un po le odio ma lui di più io di più o un'ora verso sud a genova una città costruita su praticamente in verticale su una montagna ecco avere tutta questa varietà è veramente formidabile ecco in un certo senso però ecco ci sono anche le cose negative a questo proposito potremmo anche parlare dell'aspetto urbano di urbanistico no non so se avevamo volevamo parlarne in un video a parte però magari sì un accenno si potrebbe fare tra i tre posti quindi italia nord europa e america diciamo perché per me in un certo senso mi piace molto di più come gestito lo spazio pubblico in nord europa dove c'è spazio per pedoni bici e anche auto trasporto pubblico funziona bene abbastanza bene anche in italia che che se ne dica e qua arriverà arriveranno tutti gli italiani a dirti non è vero di solito sono quelli che non lo prendono mai che dicono che non funziona però è vero che funziona un po meglio ci sono c'è più varietà tendenzialmente nelle città del nord europa proprio perché c'è questa commistione no più è importante il pedone più dunque sono importanti mezzi pubblici e quindi avere questo questa gestione dello spazio più democratica meno autodipendente per me molto importante per la qualità di vita cioè poter uscire e avere e praticamente gestirsi la propria vita nei un raggio a piedi di 5 10 minuti questo è quello che per me fa qualità della vita per tanti altri è mettersi in macchina e fare un quarto d'ora per da questo punto di vista trovo che non tutte le città americane perché ci sono grande eccezioni come boston new york san francisco ma molti città americane sono all'estremo opposto dove c'è tanto verde c'è tanto spazio e questo comunque è positivo però è la cosa negativa è che si è schiavi dell'automobile in italia siamo riusciti a creare un mostro un ibrido il peggio dei due mondi a parte i meravigliosi centri storici comunque invasi dalle auto comunque invasi dalle auto tranne lodevole eccezioni che poi fai passare auto in strade minuscole che pure peggio a quel punto se vuoi essere dipendente dalle auto allora fai come in america che ci hanno 18 corsi esatto però diciamo comunque i centri storici tendenzialmente perché costruiti in un'altra epoca un'epoca prima delle automobili sono belli sono vivibili ma le periferie anche le estreme periferie quindi oltre la periferia addirittura cioè la parte delle conurbazioni eccetera a lo sprawl quindi la diffusione massiccia sulla campagna di una città americana ma il disordine dell'italia quindi senza almeno la grazia dei sobborghi dei suburbs americani che sono comunque belli da vedere invece i nostri suburbs non sono così belli da vedere ecco ultimamente hai visto molto il nostro caro marco cappelli qui su podcast italiano beh se ti stanno piacendo i nostri contenuti recenti amerai anche dentro l'italia in italiano il nuovo corso di italiano avanzato di podcast italiano scritto proprio insieme a marco ti porteremo alla scoperta dell'italia moderna toccando temi di cultura storia società al tempo stesso ti aiuteremo a migliorare le tue conoscenze linguistiche così che tu possa fare un salto di qualità da livello intermedio a livello avanzato il corso è una fusione di cultura e lingua il nucleo di ogni capitolo è un video su argomenti storici o culturali di venti o più minuti che poi è complementato da un approfondimento su un tema grammaticale avanzato da un approfondimento lessicale da flashcards da esercizi quindi come vedi un bel po di materiali ma anche una comunità di studenti dove potrai cimentarti in sfide di scrittura e commentare gli episodi oltre a ciò acquistando entro il 19 febbraio avrai accesso a dei bonus speciali l'audiolibro del mio ebook come raggiungere il livello avanzato in italiano dirette mensili con marco sui temi del corso flashcards delle parole difficili che usiamo negli episodi e poi sconti del 50 per cento su fonetica italiana semplice e la storia di italo ti lascio tutte le informazioni importanti nel link in descrizione le iscrizioni stanno per chiudere quando pubblico questo video e non riapriranno per molti mesi quindi se può interessarti questo è il momento il momento di fare un salto di qualità nel tuo italiano e di intraprendere un viaggio alla scoperta della vera italia un'altra cosa un'altra differenza la differenza dell'approccio alla genitorialità genitorialità che ha un impatto secondo me anche sul famoso sulle famose nascite dice perché poche nascite in italia perché il bambino in un certo senso è l'araldo della fine della vita indipendente quindi non si può più vivere una volta che il bambino il focus sarà solo sul bambino e il bambino deve essere protetto da tutto quindi bisogna dare questa enorme attenzione quindi non rimane lo spazio per i genitori tendenzialmente in italia secondo me è molto poco e questo trovo che sia un limite culturale in un certo senso mentre nord europa è fatto da bambini facciamoli presto tendenzialmente anche in america questo è abbastanza simile prima che in italia molto prima anche perché c'è meno carica del di essere genitore sì sei genitore ma vai a teatro vai al cinema fai quello che vuoi e ogni tanto bisogna stare attenti ai bambini ogni tanto bisogna anche dare attenzione ai genitori alla mamma e al papà sono importanti anche loro ecco questo può sembrare una cosa banale ma ha un impatto culturale importante io ho notato collegato a questo un'altra cosa è assumere che il ruolo del genitore che accudisce di più è quello della donna in italia è ancora ahimè sta cambiando c'è l'evoluzione in corso ma secondo me è ancora molto forte io mi ricordo ancora come c'è il congedo di paternità ancora ancora oggi in italia immagino ci si è in belgio c'è lo stesso per donne e uomini hanno lo stesso identico congelo in italia il padre non può prendersi dei mesi qui è quattro mesi per la donna e quattro mesi per l'uomo e quindi e questo è il modo di fare come dovrebbe essere e quindi è notare quattro mesi solamente perché uno dice un italiano dice ha solo quattro mesi lo so che per un americano spesso non c'è proprio la maternità ma è fatta apposta per essere poco per tutti e due così che dando per scontato che tutti e due se ne devono occupare e in più ci sono tante strutture in belgio per aiutare i genitori neogenitori quindi l'asilo per tutti sia nido quando sono molto piccoli è molto comune lasciare anche i bambini all'asilo nido mentre in italia asilo nido sei uno che abbandona i bambini e poi a due anni e mezzo tutti vanno a scuola quindi da questo punto di vista i bambini a due anni e mezzo sai che dalle otto alle tre e mezza del pomeriggio saranno a scuola e questa è una cosa che comunque insomma da un termine abbastanza corto al periodo di maggiore impegno genitoriale che sono i primi due anni e mezzo diciamo poi dopo due anni e mezzo comincia ad avere gli spazi per te insomma in italia c'è molto è molto presente la figura anche dei nonni che aiutano sì perché di nuovo lo stato non aiuta e quindi la società deve fare da supplente allo stato quindi devono essere i nonni quindi e questo crea una serie di disfunzioni secondo me poi anche di cose positive perché cresce io non sono cresciuto con i nonni ma perché i miei nonni erano lontani di nuovo sono un'eccezione anche questo però questo crea di rimanere legati ai nonni sempre quindi non puoi andare a vivere lontano dai nonni esatto e io vedo tanti amici in italia che hanno questo problema mentre noi non abbiamo avuto questo problema sai che a due anni e mezzo andranno a scuola i bambini e saranno lì dalle otto alle tre e mezza di pomeriggio ah un'altra cosa la scuola cosa e cosa no la scuola ne parlavamo oggi con ne parlavo qualche settimana fa con amici che sono rimasti in italia no allora la scuola in italia non è è un è buona in generale come qualità dell'insegnamento secondo me in generale poi marco è molto ottimista vedete è l'unica persona che parla bene dei trasporti pubblici della scuola stessa ma in realtà cosa pensi del sistema sanitario ma il sistema sanitario è un buon sistema sanitario con l'italiano ma scherziamo ma allora senza fare l'esempio con gli stati uniti che dove veramente non c'è paragone nel senso che è molto migliore con l'italiano ma anche rispetto a paesi come l'inghilterra che molto auto celebrativa nel dire che è un diciamo un sistema sanitario nazionale eccetera ma io trovo che sia molto migliore il sistema italiano questo non vuol dire tornando alla scuola che non ci siano dei problemi grossi secondo me di impostazione uno dei problemi grossi di impostazione per esempio è lasciare molto spazio ai compiti quindi si studia a scuola ma poi una enorme parte dello studio in realtà a casa questo vuol dire che se sei una famiglia benestante molti possono permettersi di studiare con uno che fa ripetizioni quindi una specie di insegnante di sostegno allora andrai benissimo perché tu hai l'insegnante privato ma se non hai l'insegnante privato se i genitori lavorano se tu sei da solo è più difficile stai creando delle disparità sociali e in più è tutto è tutto costruito sul fatto che ci sono i nonni di nuovo quindi tipicamente dalla scuola italiana si esce a mezzogiorno e mezza all'una che è troppo presto io uscivo a quell'ora venivo parcheggiato da mia nonna ci rimanevo fino alle 5 ma di nuovo se tu non hai i nonni è troppo presto come fai come fa una famiglia ad avere due persone che lavorano come è necessario perché tutto costruito su una vecchia società su una società dove lavorava solo l'uomo e dove c'erano i nonni sempre vicino sempre di più anche in italia paese restio al cambiamento non è più così lavorano tutti e due e i nonni spesso non sono vicini o spesso sono troppo anziani siccome l'età continua ad aumentare perché le persone rimandano perché sentono diventare genitori come un passaggio faticoso difficilissimo da rimandare il più possibile quindi dopo varie generazioni di rimandi ormai i nonni hanno 80 anni o non ci sono neanche più quindi questa società non può continuare a funzionare in quel modo o un'altra cosa che detesto della scuola italiana è che ci siano delle vacanze lunghissime d'estate che durano tre mesi e mezzo e nessuna vacanza durante l'anno e qui è inconcepibile cioè ogni sette settimane loro fanno una pausa perché è tutto studiato sul fatto che i ragazzi bambini devono lavorare ma poi devono riposarsi e in italia non solo farò poche vacanze durante le vacanze devono fare i compiti mentre qui dicono no durante le vacanze non devi fare nessun compito perché durante le vacanze le vacanze sono fatte per giocare divertirsi socializzare diciamo sviluppare altre cose che non siano l'apprendimento e trovo questo che questo sia proprio un'impostazione molto retrograda che deriva dal dall'impostazione fascista della scuola l'abbiamo detto in un una puntata del corso del corso del corso del del podcast no no era il corso sul ah no era del podcast scusate una puntata del creiamo così tanti contenuti che ormai ci dimentichiamo dove abbiamo detto le cose scusate però ecco il sistema sanitario italiano tu hai detto è un buon sistema sanitario in difficoltà ultimamente perché sono state tagliate un po di risorse qualche medico infermiere se è andato all'estero perché pagano meglio quindi so che sta peggiorando ma fino a quando sono andato via io quindi magari a un ricordo di dieci anni fa io l'ho sempre trovato ottimo super efficiente anche che dice che diventa sempre più difficile che questo sistema riesca a sostenersi e che si andrà sempre più verso verso il privato però insomma non sono dentro a quel mondo lì quindi non so dire è vero che vedo io stesso che mi trovo sempre più spesso a passare dal dal privato perché a volte devi aspettare tantissimo davvero per se vuoi fare degli esami che ti servono con urgenza questo è vero per diciamo per le cose che non sono veramente importanti diciamo veramente urgenti però quando hai bisogno di una vera assistenza sanitaria urgente o anche cose importanti come nel mio caso la nascita dei bambini cioè quello è vero avere delle strutture gratuite dove tu non questo può sembrare strano io io mi ricordo che parlavo con mio suocero negli stati uniti fa ma avete messo da parte i soldi per la nascita per per l'ospedale detto quali soldi per l'ospedale detto sì beh poi ho scoperto che costa in istituti costa 6 7 mila dollari di media poi dipende ovviamente come sempre gli stati uniti dipende quale assicurazione hai quanto è buona eccetera in italia penso non farebbe nessuno bambino se fosse con quei costi lì proprio ma in generale quel tipo di assistenza ma anche qui qui è la cosa interessante che che è un sistema un po misto nel senso che il tipicamente tu hai una mutua che ti ripaga dopo che tu hai speso la mutua che costa pochissimo non è un'assicurazione sanitaria come negli stati uniti è una mutua costa 8 euro al mese per intenderci e che però ripaga la quasi totalità delle spese di assistenza un'altra cosa che abbiamo menzionato che trovo abbastanza interessante che secondo te gli italiani hanno una maggiore voglia di lavorare cito le nostre note che questa c'è detta detta così sembra quasi sorprendente perché dire che gli italiani abbiano più voglia di lavorare tipicamente noi abbiamo l'immagine degli statali italiani non me ne vogliono i lavoratori statali attenzione che mia madre è postale mio padre ferroviere però il che insomma timbrano il cartellino e poi vanno in spiaggia insomma i soliti discorso però vabbè forse quello un mondo a parte anche ma anche anche in quel mondo lì io ti dico ripeto dalla mia esperienza personale cioè mio padre l'hanno dovuto cacciare dalle ferrovie e lui non riusciva ad andare in pensione ferrovie adesso sono una società di proprietà pubblica ma un tempo erano proprio un pezzo dello stato le ferrovie italiane e questo lo vedo in tantissime persone ma poi se si va sul privato ecco questa è una cosa che potrebbe stupire tanti in italia si lavora tantissimo si potrebbe dire troppo sicuramente troppo a detta di chiunque gli orari lavorativi in italia sono molto ampi e c'è molta più disponibilità da parte del personale rispetto al belgio ma io direi rispetto alla maggior parte dei paesi c'è molta più disponibilità da parte del personale a venire incontro alle esigenze del datore di lavoro se c'è bisogno di più lavoro ma sì lavoriamo di più e questo questo straordinari non pagati straordinari non pagati ma sì siamo tutti sulla stessa barca dobbiamo fare dobbiamo andare bene quindi lavoriamo un altro questo lo dicono i manager secondo me quelli sotto in realtà lo fanno perché non perché forse c'è una sorta di peer pressure che devi farlo però però quello che dico è che al di là dei luoghi comuni io mi sono sentito voi fate l'italiano fate la siesta nessun italiano fa la siesta diciamolo innanzitutto non la siesta non esiste non è una cosa italiana c'è la passo pranzo e basta ma il il punto è che è normalissimo in italia lavorare in un ufficio dalle nove alle otto di sera è normalissimo in belgio è inconcepibile in germania ancora di più cioè in germania chiamano la polizia ti buttano fuori per carità sono anche d'accordo che sia una cosa positiva di avere questo ordine anche di di non lavorare oltre ma assolutamente non è vero che gli italiani non lavorano e ve lo dico io che ho visto tutte e due le culture lavorative e conosco anche tanti altri che lavorano in tante perché io lavoro con tutta l'europa e anche con gli stati uniti ho una mia azienda americana e lavoro con tutti i paesi d'europa quindi più o meno diciamo uno sguardo su tutta l'europa ce l'ho ho anche lavorato con aziende giapponesi se vogliamo dirla tutta ecco però italiani sono più vicini ai giapponesi di quanto di quanto siano ai tedeschi italiani sono più vicini ai giapponesi che i tedeschi e sono più vicini agli americani e giapponesi anche gli americani lavorano tanto troppo rispetto a tedeschi belgi francesi inglesi noi siamo i più giapponesi d'europa ma ed è dimostrabile matematicamente voi potete andare a cercare le ricerche a riguardo e le statistiche troverete la conferma fantastico quindi in questo video abbiamo imparato che il sistema sanitario nazionale italiano è ottimo i trasporti pubblici sono ottimi gli italiani sono lavoratori infaticabili ma io ho detto cose negative io ho detto tante cose negative e ho detto è anche una cosa negativa lavorare troppo certo certo cioè non è una cosa solo positiva cioè non lo sto dicendo come una cosa positiva sto solo dicendo che non è vero che non lavoriamo tanto potrebbe essere una cosa negativa cioè qui per esempio i negozi sono chiusi la domenica tutti i negozi del paese sono chiusi in italia in italia sono centri commerciali sono aperti sì però se vuoi andare in un bar non ne trovi uno ma il centro commerciale è aperto l'ikea è aperto e qui no nessun negozio di nessun tipo in tutto il paese è aperto di domenica stessa cosa in germania inconcepibile in italia è aperto per dare magari più diciamo per dare più rispetto diciamo per accordare maggiore importanza agli interessi del datore di lavoro rispetto al lavoratore si può vedere anche in questo modo i trasporti pubblici sono ottimi diciamo non ottimi diciamo sono buoni buoni dipende anche dalla latitudine e dalla città però nessuna città è veramente veramente deprimente io ho trovato spesso in inghilterra dei posti con trasporti pubblici veramente carenti molto peggiori di qualunque città italiana e dico ovviamente fuori londra che ha dei trasporti ottimi no e per non parlare gli stati uniti stati uniti i trasporti pubblici deprimenti con l'eccezione solita di new york noi italiani spesso ci bacchettiamo siamo molto critichi e critici di noi stessi ed è a volte cioè giusto essere molto spesso ha ragione sì certo ma spesso sbagliamo cioè dovremmo essere critichi su altre cose tipo la scuola quello che ho detto prima della scuola che secondo me è una grossa pecca se ne parla molto meno di invece dire gli italiani non sono lavoratori che non è vero ci sono cose che non apprezziamo forse abbastanza se diamo per scontate va bene dai grazie marco andate ad ascoltare storia d'italia se volete scoprire la storia del nostro paese dal quarto secolo dopo cristo fino al settimo adesso sì sono arrivato al settio ci risentiremo presto sono sicuro grazie grazie davide ciao alla prossima ciao ciao dai un'occhiata dentro l'italia in italiano e ricorda che le iscrizioni stanno per chiudere link in descrizione